Per il quarto anno consecutivo il volontariato di protezione civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si impegnano insieme nella campagna informativa nazionale per le buone pratiche di protezione civile. Il weekend dell'11 e 12 ottobre volontari, gruppi comunali e associazioni locali di protezione civile allestiranno punti informativi io non rischio buone pratiche di protezione civile in 143 piazze distribuite su quasi tutto il territorio nazionale per sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico in alcuni comuni costieri anche sul rischio maremoto. Sabato 11 e domenica 12 ottobre in contemporanea con altre piazze in tutta Italia i volontari del gruppo comunale di Capaccio partecipano alla campagna con un punto informativo io non rischio allestito nella zona archeologica di Pestum per incontrare la cittadinanza distribuire materiale informativo sul terremoto e rispondere alle domande sulle possibili misure per ridurre il rischio. Sono solo tre tra cui quello di Capaccio Pestum i gruppi di protezione civile comunale che hanno aderito alla campagna in provincia di Salerno. Protagonisti della campagna come caratteristico delle iniziative io non rischio sono i volontari e le volontarie. Sul sito ufficiale della campagna www.ionorrischio.it è possibile consultare i materiali informativi su cosa sapere cosa fare prima durante e dopo un terremoto o un maremoto.